Nella nostra società moderna c'è un vero e proprio attacco al cervello. Il cervello ovviamente non è estrapolato dal corpo perché sono delle cose intimamente connesse. Quindi un attacco al cervello vuol dire un attacco alle nostre capacità cognitive, un attacco da varie direzioni. Quindi il nostro cervello è bombardato da una serie di stimoli nocivi e meno nocivi tra i quali si deve destreggiare e deve dare delle risposte esaurienti. Spesso queste risposte non sono consone alla salute e quindi purtroppo si ammala. Il problema fondamentale è correlare un adatto, un corretto stile di vita alla salute del nostro corpo e pertanto anche del nostro cervello. Mentre invece la medicina moderna è orientata soprattutto sulla produzione di farmaci. In realtà noi dovremo estendere la nostra visione e vedere tutto ciò che ci porta a compromettere le nostre funzioni cognitive purtroppo dal nostro sbagliato stile di vita, la nostra alimentazione, il nostro modo di essere, di lavorare, di pensare, di mangiare, di atteggiarci verso il mondo esterno. Tutto questo comporta delle conseguenze e queste conseguenze purtroppo spesso si pagano attraverso l'insorgere di alcune patologie, di alcune malattie che poi fondamentalmente sono le patologie neurodegenerative e autoimmunitarie che fanno la parte del leone nella nostra epoca moderna. Nel cervello ci sono delle rappresentazioni somatotopiche, si chiamano, di tutti gli organi del nostro corpo, ma soprattutto nelle braccia, le mani, la bocca, la lingua, cioè le parti più riccamente innervate e quindi più ricche di recettori, hanno delle rappresentazioni volumetricamente più grandi. Ad esempio si vede che la mano ha una rappresentazione molto più grande di tutta la gamba. C'è il cervello, no? Che raffigura proprio le mie parti. Esatto, c'è questa schematizzazione che nel fine ottocento si chiamava l'homunculus, cioè una specie di omino disegnato dove ci sono, ecco come vedete lì, la bocca, gli occhi, la fronte, la mano, vedete la mano come è grande rispetto alla gamba, eppure la mano è molto più piccola anatomicamente della gamba, però ovviamente è molto più riccamente innervata. La lingua ha una sua parte a sé e come vedete della mano soprattutto il pollice fa quella che si chiama la parte del leone, cioè nel senso è molto più rappresentato della gamba. Grazie a tutti